Ambulanza challenge, ho detto tutto No Steph, ti prego! Allora, abbiamo la skin adatta, dato che è la skin di salvataggio Anche se poi è più adatta al mare che Ambulanza, ambulanza, però Al bagnino, piuttosto Ci dobbiamo arrangiare con quello che si ha Siamo una unità 50 contro 50 Dobbiamo andare a recuperare un golf cart che diventerà la nostra ambulanza E andare in giro con quello a salvare la gente che sta a terra Ok, poveracci Non vorrei essere in loro Perché? Perché secondo me non saremo bravi Bravi soccorritori È probabile, è probabile Soprattutto quando notiamo che magari in mano hanno uno scar Eh, appunto Cioè, cosa fai lì? Lo scar o la vita? Beh, io in linea generale sarei soddisfatto se ne rimassimo tipo tre persone Secondo me saremo già stati utili per la mappa Utili per il game E secondo me andrebbe già bene come ambulanza challenge Allora, vanno tutti a tilt Oddio, stanno vanno tutti a tilt Cioè, il centro è tilted Perché? Cioè, qui ci mettono anche in difficoltà Noi ragazzi stavamo andando a prendere l'ambulanza Per quello stiamo andando a Paradise Certo, perché qui non la trovi d'altre parte Noi siamo rimasti soli È un po' triste sta cosa, Steph Tutto il game Cioè, quando arriviamo, secondo me, sono decimati, eh Te lo dico già E penso che saremo abbastanza inutili, quindi Eh, Ferre, dobbiamo luttare veloce e andare lì Vabbè, luttiamo velocissimi Cerchiamo qualche cura Che ovviamente ci servirà E andiamo, corriamo Eh, Ferre, player nemici Ci tocca fightare Perché? Vai nel palazzo, vai nel palazzo Non sembra che loro siano andati al palazzo Perché comunque era la loro prima città possibile Andando abbastanza larghi Quindi sono andati a luttare Cioè, certo, noi siamo andati nelle città nemiche Quelli che verremmo stesi Siamo noi E nessuno però verrà ad aiutarci Perché solo noi facciamo l'ambulanza challenge Ok Allora, questo piano fatelo tu Io vedo quello lì sotto Dai, 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 dai 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 Lo vedo grigia Steph È un po' sono preoccupato Ci si prova ovviamente A dirti la verità delle cose Sono preoccupato Ok Non lo ero Adesso lo sono Ok vado al piano di sotto ancora Ok Hanno provato a cecchinarmi Uh pure a me Quindi occhio alle finestre Maledetti Già Maledetti Già Eh occhio alle finestre Però qua c'è una cesta Ci provo Uh bello Shieldone e medikit Ok E anche cucire da caccia Così lo cecchino pure io a mia volta Perfetto Se lo vedo eh Perché non ho minimamente visto dove sono Eh non ne ho ancora ben idea Però fra poco li posso sfasciare Ok Il tempo di trovare un altro po' di loot Perché mi ha annullato lo shield Dai gioco fai schifo Apro io Vabbè Steph è destino Ma non è destino È destino Se voi ti lascio il fucile da caccia Lo vuoi? Beh E io prendo il Thompson Ce l'ho già Beh beh Non rompere Lo sai che io e lo Scar Siamo una cosa sola Non rompere Io ho soltanto visto uno scelto Allora che si fa? Eh dobbiamo killarli Cioè prendiamo un veicolo e scappiamo No no li killiamo E poi andiamo a salvare il nostro team Ok ma dove sono? Non ne ho bene idea È quello il problema Sto cercando di farmi un pochettino di legna Perché Uh trampolino Ok lo prendo lo prendo lo prendo Prendi 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 Ci sono anche delle bende Eh Beh se riesci a prenderle è buene Dai lascio lo slurp Anzi lo slurp me lo bevo io Esatto Che tanto non è utilissimo Penso che siano più utili dalle bende Esatto Eh lo shieldone e il medikit Quindi quelli me li tengo Ok Fuciletto C'è chino Qua c'è altre bende Così riesci ad accumularle tu Ottimo 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 Così ne ho già dieci Che comunque sono tantissime Ne ho visto uno Lo vedi? Sì Va Colpito Secondo me l'avevo preso Io l'ho colpito eh Gli ho tolto un bel po' di shield Eh sta tirando Eccole qua Mi sto spostata Ok E basta Perché non sto vendo Altri 30 di shield Steph La traiettoria dei colpi del caccia Ok a uno gli ho tolto 70 di shield Io nel mentre sto cercando di colpire Nel miglior modo possibile Ah adesso l'ho visto Oh ho gente sopra Steph Aiuto Ma Quando? Non lo so Aiutami Che sono bassissima È terra? È perché sto finendo i colpi Quanti ne ho trovato di quelli così schifosi? Ma che ne so Cavolo arrivano Aiuto Sono troppi Davvero dovevo ricaricare? Ok Ok Quanti sono ancora? Un altro lì sopra Già Ho pochi colpi Ok ha solo vita Ok Ok a terra Steph L'ho buttato giù Sì? Sì Oh ho 10 di vita Ma c'è tipo lag Sì ho notato Hai notato? Sì 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 Allora questo qua aveva un altro medikit Uno shieldone Dovrete perdonarmi ma devo usare io stessa un medikit Non è una cosa molto reale Ma pure io Sono una persona che ha bisogno di essere soccorsa Guardate la lag che c'è quando si uccide qualcuno Non lo so perché Gesù Ma che cavolo Ma questa era la modalità Però io non la gioco mai Non ne avevo idea Sinceramente non ne avevo idea Eh esattamente lagga un po' Ok ci prendiamo un veicolo Andiamo veloci Steph Dai veloci Anche se io sono il primo ad aver bisogno di essere animato al momento Ma lo vuoi un medikit? Dai Cioè lì sprechiamo tutti Prendi altre bende qua Guarda Ci sono un sacco di bende Ok però ne posso ottenere altre 5 Non ne posso ottenere più Ok tranquilla 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 Allora Andiamo a cercare un veicolo Comunque non so come Non è morto nessuno Con tutti i canavanapinacoli Quindi alla fine C'è speranza per essere utili Certo Dai ci sta Ok questo lo cambio Perfetto Perfetto Allora per picchiare si ho messo bene Per curare no Perché avrei bisogno di essere curato io No io vabbè Ho più cure che armi Ti dico la verità Perché ho lo scar E il Thompson Che comunque anche quello da vicino Fa bei danni Eccola Abbiamo la nostra ambulanzina Eccoci qua Anzi voglio andare Qua Perché secondo me Per avere una bella visione Di chi viene messo giù Mi sembra giusto È un ottimo posto Allora c'è giusto questa casa Un attimo da luttare Che secondo me vale la pena Ok So che stiamo perdendo altro tempo Che potremmo aiutare la gente Ad aspettarti Vediamo se c'è Oh io però Ah la vedo una crocetta Steph La vedo Ok Cioè potrebbe essere il nostro momento Ci sta arrivando la zona Steph Oh cavolo Moriamo noi Mi tiro il medikit Andiamo Steph corri Ma corri No devi essere più veloce Tiratelo più velocemente Che qua ci si crepa Pronta Sì Let's go È qui quello che ha bisogno di cure Ma secondo me Non ci arriviamo in tempo Beh non credo È lontanissimo Sè meno che non abbiamo la formula 1 È pieno di alleati attorno a lui Non c'è uno che lo sta arrestando Per quello serve l'ambulanza challenge Perché la gente è incredibile Noi infatti adesso diamo il buon esempio Vedrai i consolini Che andranno a rianimare sempre la gente No perché poi ci muoiono Non so se gli conviene a farlo Noi miglioreremo il mondo Ma bisogna Bisogna Al massimo le 50 contro 50 Steph non il mondo Ho rischiato moltissimo di farci morire Attenzione Anche perché io non ho neanche bevuto gli scildoni Che ho per darli a qualcun altro Ma guarda sto pensando anche di tirarmi È esagerata Perlomeno No io uno me lo tiro Lo posso tirare qua? Sì Ok perfetto Ok Allora Il tizio mi sa che è stato rianimato O è morto O è morto Volevo rimanere positivo No sì Suppongo che sia morto Ma questa macchinetta ogni tanto va storta Vabbè Direi di entrare un pochettino più nel personaggio Nino nino No questo non c'era bisogno Certo Non so volevo cambiare L'ambulanza che gira Capito Andiamo a pinna con i pendenti Ma dimmi te se deve chiudere proprio là comunque Mamma mia Che sfiga Allora io visto che non sto guidando Sto controllando costantemente la map Per il momento non vedo nessun'altra crocetta Ok Ok io spero che non si capitanà lago 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 ma c'è gente che viene sparata qua questo se le cavate grande salve tali scusi lei deve dare una mano ci ho provato a rubarglielo ci ho provato prendi i cildini e spazio per gli cildini sì però era solo uno occhio fare e proteggimi maledetto proteggimi ma doveva arrivato questo sei un maledetto step vieni a chiudermi stacido prova ok rianimami il tipo è scarsissimo quello che mi ha ucciso la mia prima rianimazione si sto provando dell'astio verso la persona che è totalmente rimbambito tieni step ecco il medikit grazie bravo curatore che è qua non dovevi uccidere uno che vuole fare un bravo lavoro di una persona onesto che un altro medikit staflo riprendilo perché la pieno ne ho tre ok ok primo salvataggio di step un po ridico veloce che vuole ripartire vabbè io lo scildone me lo tiro però c'è io qua dovevo stare in vita siamo fuori zona tanto 15 band dai corriamo maledetto l'auto perché ho cercato di proteggerla eccola qui eccola riesce a prenderlo spacco spacco dai spacca veloce perché poi lo switch è tutto rotto c'è fatto caso per cambiare posto del veicolo si 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 aspetta però se lui non sale con noi morirà di zona sali vieni amico dai dai forza ti stiamo salvando andiamo almeno questo lo sa fa ok ok abbiamo salvato io ho salvato te abbiamo salvato un'altra persona sta già andando bene step io mi sono fatto salvare ho sprecato delle cure sono un medico terribile almeno mi sto portando questo dietro qui fuori la zona è piena di persone hai visto hai visto dobbiamo dobbiamo puntare lì dobbiamo puntare lì assolutamente lo so sono d'accordo sono d'accordo sto puntando proprio lì che poi il nostro team sta stravincendo vorrei dire che è merito nostro ma purtroppo non è così si che lo è step io però aspetta eh c'è francamente no step dovevamo andare lì a salvarli e che cavolo ma c'è ti giuro andiamo non hai capito cosa ho visto l'ho visto passare attraverso la montagna ma stiamo lasciando il povero si è andato a farsi la fana kill così è anche felice hai capito l'abbiamo proprio reso felice allora andiamo lì step un botto di gente da arrestare guarda che casino vedi no questo è il nostro posto step è il nostro campo d'azione nino 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 ho fatto il largo dove sono i feriti dove sono allora secondo me fermo fermo si dimmi prego fermo tranquilla ci dobbiamo posizionare bene guardare cildoni e medikit per il risale ti stanno rubando il posto ok nino 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 c'è una bomba è tre zona che se no non possiamo salvare nessuno scappa 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 comunque abbiamo lasciato uno morire fuori dalla la zona ho capito ma sono loro fuori oh ma che fuori ma perché porta lag ma siamo pazzi ma perché smettete di sparare la mia ambulanza ferri riesci a billare per farmi salire qua no non mi fa billare dietro aspetta veloce che ci snipe però no ce la fai ci provo di così nino ok 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 salgo salgo dai ce la facciamo corri andiamo qua oh bellissimo ok allora allora gente da salvare dietro di noi e ma sono tutti fuori zona no si cavolo non sono stato io oh ma perché devono perché ci vogliono ostacolare nino 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 permesso permesso arriva dei professionisti scusate tieni 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 lo storio animando tieni il medikit mamma mia mamma mia raga ti do anche uno scildone tieni questi che li ballano incontro guarda che la città per e dove è la nostra auto ma sono dei nodri non lo so per e ci hanno rubato l'ambulanza beh qua pensi a salvati ruba aspetta aspetta stef lasciamo anche altre cinque bende tieni tenetevi le bende tieni se ne hai bisogno qualcuno le vuole se non me le riprende ma per e ci hanno rubato l'ambulanza non possiamo più lavorare stef allora ma siete dei criminali furfanti dove sei finito qua c'è gente da da tirare su non lo sta facendo nessuno vai 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 corri 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 eccolo eccolo ci sono amico ti sto salvando ecco stef oh sto salvando un sacco di gente lo stai salvando mi sto sì mi sto comportando benissimo stef ok bravissima ti do anche cinque bende amico aspetta aspetta c'ho io un medikit per lui ok ok tieni amico tieni il medikit tieni qui 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 amico l'hai visto ne frega nulla stef vabbè arrangio evidentemente ha pure per i fatti su noi l'abbiamo portato c'è tirato su c'è un altro hanno l'hanno già rianimato ok occhi aperti eh ma stef ne è rimasto uno degli avversari sta diventando una tristezza però noi siamo utili lo stesso ambulanza challenge ok ok sto guardando numero uno dietro di noi ok andiamo un'emergenza ferro un'emergenza stef se ce n'è uno vivo mi spieghi come stanno cagano ferro e cadono eh appunto scivolano ok arriviamo arriviamo amico non ti preoccupare tranquillo puoi scivolare quante volte vuoi perché ci siamo noi con te ci siamo noi con te stai bene sì tutto a posto tieni dietro di noi ce n'è anche un altro ferro è una tragedia qua eh è una tragedia tieni le bende guarda che bravi che stiamo pre ma lo sai che comunque perché nessuno vuole le mie bende oggi c'è un altro c'è un altro vieni 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 ma sai che l'ultimo vivo sta killando un botto di gente ma si si è bravo magari o è forte oh siamo a quanto quattro cinque rianimazioni ambulanza challenge che va benissimo io poi sono riuscita anche a difendere il compagno che avevamo prima perfetto ho fatto tre kick quando mi sono capitate quindi ok e allora secondo me a questo punto potrebbe aver senso andare ad uccidere l'ultimo per salvare tutti i nostri compagni che altrimenti cadranno da soli esatto e continuano a uccidersi in modo non proprio giusto è corretto però vedi perché hanno la mania di distruggere le strutture quindi la gente poveraccia cade lo so lo so ok allora ma dai che cavolo no stef è tutto ancora peggio io sto cercando sto tizio e lo so ma mi hai stappato ma è inesistente e non lo so stef chissà dove oh gente da salvare dove ho visto una crocetta sotto di noi esatto ah lo stanno già rianimando no devo andare io sono io qui il bagnino il salvatore a cavolo ha finito di rianimare pensavo fosse quello per occhio la nuova zona sta chiudendo è dentro la zona ok ok io sto guardando dall'alto se qualcuno ha bisogno di aiuto e nel caso lo aiuterò vabbè si vede anche per è posso essere l'eroe sono stato l'eroe l'ho trovato grande 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 dai direi che comunque questa challenge è riuscita si abbiamo rianimato diversi player hai anche vinto salvando tutto il nostro team secondo me ne abbiamo rianimato almeno o 56 non li ho contati ma 56 sei contando pure la tua caduta si contando anche quella si è stata la mia prima rianimato esatto in ogni caso ci fermiamo così fateci sapere se volete vedere di nuovo l'ambulanza challenge di nuovo in corso nelle 50 contro 50 è stato un game particolare ma almeno siamo stati utili in qualche modo comunque qua sotto comprenendo altri video iscriviti al canale campanellina e ci vediamo in un prossimo video ciao ciao